Gli ascolti di San Silvestro, tra i vaglioni in diretta TV su Rai 1 e Canale 5 e il messaggio del presidente Mattarella a reti unificate. Prime Time su Rai 1 l'anno che verrà, in diretta da Matera, ha registrato 5.552.000 telespettatori, share 35,10% su Rai 2 Il film d'animazione Hotel Transylvania 2 ha registrato 839.000 telespettatori, share 5,04% su Rai 3.42esimo Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo ha registrato 1.480.000 telespettatori, share 8,93% su Canale 5 Capodanno in Musica, in diretta da Bari, ha registrato 2.425.000 telespettatori, share 16,67% su Italia Il film in time ha registrato un netto di 511.000 telespettatori, share 3,10% su Rete 4 Il Segreto ha registrato 326.000 telespettatori, share 2,00% sulla 7 Il film intrigo internazionale ha registrato 429.000 telespettatori, share 2,60% su TV 8 Cirque du Soleil o è stato visto da 339.000 telespettatori, share 2% su 9 Il film tutti insieme appassionatamente ha registrato 258.000 telespettatori, share 1,6% su Rai 1 messaggio di fine anno del presidente video ha registrato 5.133.000 telespettatori, share 30,30% su Rai 2 messaggio di fine anno del presidente ha registrato 777.000 telespettatori, share 4,58% su Rai 3 blob 943.000 5,59% messaggio di fine anno del presidente ha registrato 2.634.000 telespettatori, share 15,55% su Rete 4 Un altro messaggio di fine anno del presidente ha registrato 359.000 telespettatori, share 2,12% Stasera Italia 660.000, 3,93% sulla 7 Il messaggio di fine anno del presidente ha registrato 637.000 telespettatori, per uno share del 3,76% Preserale su Rai 1 l'eredità ha registrato nel segmento la sfida dei 73.278.000 telespettatori, share 19,61% e nel programma un netto di 4.085.000 23,61% su Rai 2 messaggio di fine anno del presidente ha registrato un netto di 739.000 telespettatori, share 4,35% su canale 5 The Wall ha registrato nel segmento i protagonisti 2.020.000 telespettatori, share 12,25% e nel game un netto di 3.114.000, 18,03% Punto su Italia 1 il film The Time Machine ha registrato un netto di 544.000 telespettatori, share 3,21% Punto su Rete 4 Tempeste d'Amore ha registrato 523.000 telespettatori, share 3,07% Punto sulla 7 Josephine Angardiene ha registrato 295.000 telespettatori, share 1,77% Punto su Rai 1 una mattina ha totalizzato un netto di 1.117.000 telespettatori, share 22,37% Storie italiane speciale 1.257.000, 19,39% e 1.012.000, 14,52% La prova del cuoco 1.338.000, 11,51% Punto su Rai 2 i fatti vostri ha registrato nella prima parte 672.000 telespettatori, share 8,74% e nella seconda 1.246.000, 10,61% Punto su Rai 3 mi manda Rai 3 in festa 355.000, 5,42% Tutta salute 489.000, 6,41% Dopo il Tg Quante Stori 959.000, 7,49% Geo 793.000, 5,39% Passato il presente 685.000, 4,12% Punto su Canale 5 Forum ha registrato 1.123.000 telespettatori, share 11,79% Punto su Italia on Una Mamma per Amica ha registrato 219.000 telespettatori, share 3,32% e 220.000, 2,73% Punto su Rete 4 Ricette all'Italiana ha ottenuto 196.000 telespettatori, share 2,56% Dopo il Tg Ricette all'Italiana 339.000, 2,63% La signora in giallo 594.000, 3,69% Punto sulla 7 il film La guerra dei bottoni ha registrato 96.000 telespettatori La guerra dei bottoni ha registrato 96.000 telespettatori, share 3,32%